buonasera a tutti amici di vanilla spero mi sentiate bene sono tornato questa è la prima diretta che faccio da casa vanilla sto provando un nuovo microfono dovrebbe funzionare fatemi sapere se funziona tutto stasera parliamo di un caso tutto italiano il caso murray murray e il processo alla gente per bene prima di cominciare ditemi se sentite bene perché sto provando il microfono quello più bello attaccato con un nuovo cavo volevo sapere se funziona quindi ditemi a temi un feedback spero che sarete tutti bene io ho appena finito una partita di padel chi mi segue su instagram lo sa peraltro saprà cioè vedrete anche un risvolto dietro a queste a queste frequentazioni di padel e perché un video probabilmente sarà anche da lì o una parte di video e quindi e quindi mi sembra di capire che si senta tutto molto bene siamo una trentina e è domenica sera il presidente del consiglio è mattarella quindi direi che non è cambiato praticamente nulla la settimana scorsa ah sì nadal ha vinto il suo ventunesimo titolo del grande slam gli australian open a sorpresa perché ero sfavorito io avevo scommesso su una d'altra euro e nulla in realtà facevo il tifo un po per medvedere però insomma va bene lo stesso e sono contento perché aveva una bella favola ha vinto un gran match comunque e dunque cominciamo subito che così chi vedrà la live potrà direttamente passare al caso murray e il processo della gente per bene vi metto su una fotografia direi quella di copertina ve la faccio vedere vi faccio vedere questa ecco vediamo come appare forse così ok va bene così mi metto un po più a sinistra mentre mi è arrivato un messaggio metto silenzioso e si mattarella è presidente della repubblica lo so grazie probabilmente mi sarò sbagliato a dire qualcosa pazienza sopravvivremo sopravvivremo ragazzi si mattarella è presidente della repubblica non del consiglio progetto del consiglio so bene che mario draghi mi sono confusi ma vedo che si sono subito pronti i puntualizzatori ciao michele ciao roberta va benissimo fate bene a puntualizzare spero che ecco tutti quanti sappiano che mattarella il presidente della repubblica tranne me che pensavo fosse quello del consiglio allora il caso murray e il processo alla gente per bene augusto murray fu uno dei medici più famosi del suo periodo non solo in italia ma in tutta europa un vero luminare della scienza medica il dottor murray era di fermo e qui nacquero i suoi due figli teodolinda detta linda e tullio sia il padre sia il fratello adoravano linda che venne educata in modo estremamente laico e progressista linda aveva avuto una breve storia d'amore con un allievo del padre carlo secchi poi finita nel nulla e aveva in seguito conosciuto il conte francesco bonmartini di padova che le fece una corte serrata nonostante l'iniziale indecisione linda accettò di sposarlo nel 1900 nel 1892 all'età di 21 anni allora il conte bonmartini lo vedete è l'ultimo di là ok l'ultimo alla mia sinistra il marito si rivelò gretto e prepotente non era ricco come aveva sostenuto il palazzo di padova dove linda doveva secondo il marito restare confinata era un edificio tutt'altro che elegante comodo divenne abbastanza ovvio che l'interesse del conte non era tanto per la moglie quanto per il prestigio e la posizione del suocero bonmartini infatti non era neppure diplomato ma ambiva a laurearsi in medicina chiese quindi aiuto al dottor murri per ottenere l'accesso all'università murri glielo negò ma in qualche modo il conte riuscì a laurearsi la coppia nel frattempo si era trasferita a bologna dove il dottor murri era rettore dell'università e nel frattempo aveva avuto due figli il fratello di linda tullio avvocato di forti sentimenti socialisti passava molto tempo con la sorella la quale gli confidava le molte miserie del suo matrimonio i litigi fra i coniugi bonmartini erano sempre più aspri e nel 1899 linda ottenne la separazione poco tempo prima aveva ritrovato il suo vecchio amore il dottor carlo secchi e i due erano diventati amanti nonostante il tradimento i coniugi si riepacificarono probabilmente dietro forzatura del dottor murri ma in verità ognuno continuava a fare la propria vita da separati in casa dopo la laurea bonmartini aveva cominciato a fare pressioni su linda affinché convincesse il padre a prenderlo come assistente all'università quando non riuscendo ad ottenere l'ambito in carico arrivò a minacciare linda di tornare a padova e di portarle via i figli se il suocero non l'avesse accontentato il fratello tullio arrivò alla conclusione che l'unico modo per salvare la torre la sorella fosse togliere di mezzo il bonmartini carlo secchi desideroso di tenere per sé l'amante procurò a tullio il del curaro e il piano era tutto fuorché un omicidio silenzioso l'idea era che tullio iniziasse a lottare con bon martini e che rosina bonetti governante di linda e amante del fratello gli iniettasse il veleno il piano andò in fumo perché bon martini era molto più prestante di tullio ma questo non fece desistere la compagnia dal proposito di uccidere il familiare ormai indesiderato tullio nell'agosto del 1902 cercò la complicità di pionaldi giovane medico squattrinato affinché lo aiutasse a uccidere bon martini il giovane non accettò anche se si preoccupò non si preoccupò di avvisare la polizia dei piani di tullio il 2 settembre la portinaia dello stabile sentendo un odore nauseabondo provenire dall'appartamento contattò tullio dato che linda e i figli erano in vacanza ma l'uomo non aveva le chiavi sfondata la porta la polizia ritrovò il cadavere di bon martini già in avanzato stato di decomposizione ucciso da 13 coltellate l'appartamento era sotto sopra come se si fosse trattato di una rapina la polizia iniziò le indagini e scoprì che linda aveva un appartamento nelle vicinanze affittato sotto falso nome dove si incontrava con la marte l'amante carlo secchi dopo la scoperta del cadavere la donna fuggì in svizzera con i figli tullio confessò l'omicidio al padre che lo denunciò la lettera di confessione sosteneva che lui insieme alla bonetti e analdi aveva ucciso bon martini durante un alterco e che le chiavi di casa le aveva fornite linda alla bonetti dopo aver scoperto i fatti augusto murri si recò in svizzera a riprendere la figlia e i nipoti riportandoli in italia la compagnia di omicidi fu tutta arrestata tullio e linda murri carlo secchi pionaldi e rosina bonetti la sordida vicenda destò un enorme scandalo sia per le persone coinvolto coinvolte la gente per bene sia per la amoralità della storia ne parlarono tutti i giornali italiani e anche la stampa estera incredibile pensare all'alta borghesia laica e progressista coinvolta in un omicidio terribile si provò perfino a coinvolgere augusto murri del tutto estraneo alla vicenda il processo da bologna venne trasferito torino per legittima sospizione ed iniziò nel febbraio del 1905 nella storia erano presenti tutte le componenti per far aumentare le tirature dei giornali il veleno le coltellate gli amanti il fratello con il suo attaccamento morboso alla sorella i murri erano già condannati dalla gente comune quasi a dimostrazione della perversità della borghesia al processo parteciparono diversi staff di avvocati centinaia di testimoni e per la prima volta in italia vennero interpellati i periti psichiatrici il processo si concluse in agosto con la condanna di tutti gli imputati tullio murri fu condannato a 30 anni per omicidio pionaldi a 30 per complicità la bonetti a soli sette anni per complicità mitigata dalla semi infermità mentale e finì in manicomio l'amante di linda carlo secchi fu condannato a dieci anni e morì in carcere linda murri fu condannata a dieci anni per complicità ma fu assolta dall'accusa di essere la mandante e venne graziata dopo solo i otto mesi nel 1906 da vittorio emanuele terzo probabilmente per riconoscenza ad augusto murri che aveva salvato la principessa mafalda dal tifo poi sappiamo tutti che mafalda fece una brutta fine linda si risposò visse fra porto san giorgio e roma e morì nel 1957 tullio uscì dal carcere nel 1919 e morì nel 1930 due anni prima del padre dalla vicenda venne realizzato il film fatti di gente per bene del 1974 con giancarlo giannini che interpreta tullio catherine deneve nei panni di linda per la regia di mauro bolognini alla vicenda però c'è stato un seguito recente riportato alla luce dalla figlia di tullio gianna murri nel suo libro le verità sulla mia famiglia secondo gianna suo padre dopo la scarcerazione scrisse la storia della vicenda con istruzione di non renderla nota se non dopo la morte del padre quindi del professore universitario nelle sue memorie tullio sostiene che non fu lui a commettere l'omicidio ma che arrivò a casa bon martini quando il cognato era già morto il colpevole che avrebbe confessato al prete il delitto prima di morire era un tale la bella ed era l'amante di una cameriera di linda essendo tullio convinto che la mandante fosse la sorella aveva confessato prendendosi la responsabilità dell'omicidio non tanto per salvare linda quanto per evitare al padre un dolore così grande di sapere l'adorata figlia colpevole le memorie però non erano più disponibili dato che gianna in ristrettezze economiche le aveva vendute alla zia linda la quale se quanto scritto fosse stata la verità avrebbe avuto tutto l'interesse a distruggerle nel mentre si è spenta la luce qua adesso la riaccendo vediamo se funziona aspettate che sto tentando di riaccendere la luce qui vediamo se attaccando una presa usb il computer funziona se abbiamo fatto ce l'abbiamo fatta allora oggi abbiamo dice nives viva nadal anche se federer rimarrà un mito io sono tifoso di federer perché insomma perché nessuno ha giocato mai meglio tennis di roger federer e quindi sono tifoso di federer però anche nadal ha uno spirito combattivo eccezionale e giocovic peraltro ha una forza mentale che non avevo mai visto in nessun giocatore guardo tennis da almeno quasi 30 da quasi 30 anni allora dunque la sì ragazzi la luce vi spiego è questa qui vedete se la tolgo cioè in pratica è una lucina da niente no vi la faccio vedere perché così è una lucina che veramente fa ridere no cioè è piccolissima costa niente perché costa tipo 15 20 euro ma alla fine è la luce più importante guardate è la luce più importante dei miei video è strepitoso cioè ho delle luci da un sacco di soldi che fanno molto meno effetto invece questa qui è quella che ti puoi tenere vicino è quella che rende di più saluto tutti quelli che sono appena arrivati e poi vado a leggere qualche commento volevo sapere secondo voi cosa cosa ne pensate del caso murri cosa insomma fate scrivetemi scrivetemi un po di cose ditemi come avete passato in questi giorni possiamo parlare di tutto stasera non ho particolare fretta anzi e domani peraltro due partite di padel insomma sto passando un periodo molto molto movimentato nella mia vita alberto dice mi ricordo il film del 74 giannini e denev da oscar adele dice io sono a discutere con i miei cani marina mi saluta e via nulla devo dire il caso murri è un caso a me è molto piaciuto ecco perché l'articolo di Giovanna Francesconi scusate non l'ho detto all'inizio del video della live mi è piaciuto perché sì è proprio un caso di gente per bene no quelle persone che a inizio novecento facevano parte della borghesia e che si ritenevano lontani da queste pulsioni animalesche istintive che è l'omicidio questi moti di esagerata forza e di questa dimostrazione di forza che non si pensava fossero propri della borghesia e invece anche la borghesia ovviamente come è ovvio si 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 produceva in questi in questi delitti intanto ringrazio tantissimo sasa che mi fa un super sticker da due euro ragazzi io vorrei non ringrazio mai abbastanza gli abbonati e vorrei ringraziare nuovamente tutti gli abbonati dal canale di vanilla siete tantissimi siete più di 570 siamo arrivati quasi a 600 siamo quasi a 600 abbonati di vanilla magazine e davvero per noi siete un motore continuo per esempio gennaio un mese che purtroppo non è andato molto bene cioè andato benissimo a livello di visualizzazioni ma non è andato molto bene a livello di fatturato purtroppo perché gennaio un mese che va picco con la pubblicità ma col fatto che ci siete voi abbonati ecco si si mitiga un po questa situazione questi sbalzi pubblicitari si riescono si riescono a mitigare molto e quindi vorrei ringraziarvi ancora una volta e anche a chi poi fa le donazioni non mi hanno ancora attivato quei malandrini youtube i super grazie sotto i video che secondo me aiuterebbero molto la causa peraltro un po di programmazione adesso andrò a fare due video a venezia e poi dopo devo andare in umbria non ho ancora fatto video in umbria credo no e poi finalmente prima o poi devo riuscire a venire al sud assolutamente insomma però ci vogliono fondi ci vogliono cose eccetera quindi spero che mi attivino presto i super grazie mi sembra su sui video così chissà che non prendiamo un po di finanziamenti anche da lì e posso permettermi però vi garantisco che per venezia mi sto impegnando moltissimo ieri ho passato tutta la sera notte a scrivere il testo a rivedere i testi a fare e anche quando finirò questa live mi metterò a rivedere i testi per venezia perché spero vengano proprio dei bei video ecco devono essere fatti nel modo giusto e quindi ci vuole un po' tempo e in più bisogna andare là impegnarsi insomma è lunga ecco e quindi nulla vorrevo ringraziarvi una volta di più perché con la vostra non solo guardando i video ma anche con l'abbonamento super chat super sticker tutti questi cose che si possono fare io non sono molto esperto purtroppo però so che si cioè so che su twitch c'è un mondo di donazioni eccetera delle quali le quali io sono totalmente come dire nel quale io sono totalmente assente su youtube so che ci sono queste cose che possiamo fare durante le live tipo i super sticker che mi ha appena fatto sassà però insomma conto molto sui super grazie per finanziare i video che farò che farò in giro dunque adele dice se ti va puoi venire in calabria da fine aprile a settembre e bene si sa guarda io andrei dappertutto cioè io davvero andrei davvero dappertutto non 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 mi limiterei anzi proprio girare l'italia lungo e largo e vivrei quasi la nomada digitale ecco e dice vincenzo cian scusate vincenzo ci saluta dalla cina quindi spettatori anche dal gigante asiatico e nulla basta direi che questo è quanto roberta mi dice sta aspettando il viaggio in sicilia che infatti porca miseria devo riuscire a fare presto non so quando ma ci riuscirò non è non è molto facile in realtà non sto neanche molto bene insomma qualche acciacco fisico purtroppo e quindi spero di riuscire a risolverlo spero di star bene per andare due giorni a venezia e vabbè purtroppo qualche capello bianco inizia a vedersi e signi quest'anno è l'anno dei 40 quindi si vede che che i 40 poverini si fanno si fanno 40 primavera iniziano a farsi sentire e dice elena e nel 1982 ci fu anche uno sceneggiato sul caso murri bello perché non lo conoscevo e dice associazione sportiva roma e che dovrei andare in maremma a parlare degli etruschi ed è vero perché sugli etruschi ancora non ho fatto niente questa è una cosa colpevole davvero mi sento un po colpevole peraltro c'è la stato dei due amanti di etruschi che è veramente bellissima e in realtà molte altre cose degli etruschi mi affascinano tantissimo fra l'altro anche le vie di roccia che facevano ci sarebbe peraltro ho vissuto in una città etrusca per una buona parte per tre anni della mia infanzia a Cerveteri e quindi sì quella sugli etruschi è proprio una grave mancanza che sto facendo che ho e dalla quale devo presto rimediare grazie a Dele Sasan ci fa sapere l'estetica della sua avvocata o avvocatessa tutte e due sono italiano mi ricordo o del suo avvocato donna che a me piace di più in realtà e saluto Raffaella da Bologna e Carla da Palermo quindi altre ci vediamo un po quale altre quale quale altre città grazie a Dele grazie a Daniela che sono un bambino no mi piacerebbe mi piacerebbe essere un bambino ma purtroppo no forse un po c'ho ancora il viso fanciullesco non ho ancora la barba che non mi cresce qua sulle guance non ce l'ho mai avuta e probabilmente mai ce l'avrò immagino però sì non sono più un bambino ho 40 anni quindi ecco non è più così facile adesso sto cominciando a vedere qualche piccola noia fisica purtroppo è antipatico però capita Luigi Fiscaletti abito in via Augusto Murri da 51 anni compiuti oggi e ho scoperto adesso chi era che vergogna bello guarda è divertente questo Val Vale dice si trova facilmente il film sì perché credo tu lo trovi su YouTube guarda ci guardo subito perché era linkato su Vanilla Magazine lo trovi in versione sembra proprio integrale sì sì guarda lo trovi in versione lo trovi in versione integrale lo trovi in realtà sotto il nome The Murray Affair 1974 il titolo è in inglese ma ma l'audio è in italiano quindi lo puoi vedere cioè puoi guardare il titolo in inglese ma poi dopo come dire puoi guardare puoi sentire l'audio in italiano Alberto si te la mente 40 anni chissà cosa farei 60 è vero guarda ma non mi sto lamentando solo che mi scoccia un po' stare fermo nei viaggi perché vorrei viaggiare di più adesso insomma ho qualche noia vabbè e l'artefice Cervetere dove è girato parte di The Omen saluto La Fenice che non da Venezia dove si trova il teatro armonimo ma da Malta ci saluta tutti quanti Daniela Petta niente di grave no penso di spero di no ecco però insomma è un po' noioso e è così Marina mi dice dopo la Maremma vieni a Roma nel museo di Villa Giulia guarda sono stato a Roma da poco in realtà vorrei tornare a Roma vorrei tornare a Roma e in questi giorni settimane prima di tornare in Grecia se riuscirò a tornare in Grecia presto vorrei tornare a Roma però vorrei farlo in giornata perché sta lì a dormire un po' è un po' lunga ecco vorrei riuscire a prendere un Frecciarossa da Bologna la mattina riuscire a fare il video che voglio fare e poi dopo tornare a Bologna la sera potrebbe essere una buona idea ecco se ce la faccio sarebbe in top ecco sarebbe non sarebbe male saluto anche Elisabetta certo Elisabetta saluto te e i tuoi figli e tutti quanti saluto la Valeria e anche Elena Sainati che ci saluta da Pisa tra l'altro Pisa non è l'unica città con la torre pendente ma è la più famosa Ravenna ha una torre pendente Bologna ha una torre pendente Livò no non Livorno Lucca ha diverse torri che credo una sia pendente comunque insomma tante città hanno torre pendente ma è ovviamente la città della torre pendente è Pisa tra l'altro bellissima ci sono stato l'estate scorsa ed è veramente un'emozione davvero un'emozione Carla devi assolutamente visitare la cattedrale di Palermo l'ho visitata perché sono mezzo siciliano Palermo sono stato però l'ultima volta che sono stato a Palermo è stato Ben Ben 13 anni fa quest'anno mamma mia tantissimo che non vado in Sicilia sono 13 anni che non vado in Sicilia colpevolmente purtroppo il racconto dell'omicidio è terminato Martina sì è terminato perché ho raccontato tutto e quindi avendo raccontato tutto non so cos'altro inventarmi sostanzialmente Valeria mi saluta da Genova dove sono venuto l'anno scorso e sono stato un giorno con Roberto Trizio il mio collega di Youtube che parla di storia romana peraltro forse a breve nuovi sviluppi forse e nulla così sono stato a Genova proprio l'anno scorso esatto bellissima davvero mi è piaciuta tanto 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 ho fatto Genova Torino o due anni fa non mi ricordo mica più sai un disastro questo non ricordo non ricordo più e comunque ci sono trovate trovate testimonianze Daniela mi dice che mi aspettano a Palermo infatti guarda io non vedo l'ora di venire anche chissà quando potrebbe essere un buon momento forse questa primavera chissà probabilmente sarò a Venezia il 21 22 di nuovo aprile per l'inaugurazione della Biennale quindi se nel mentre non vado in Grecia anzi no nel mentre devo riuscire ad andare in Grecia però devo tornare per andare a Venezia aprile potrebbe essere proprio il periodo giusto per venire a Palermo o a Catania o comunque in mille parti della Sicilia che vorrei visitare perché è un periodo perfetto non c'è troppo caldo e si sta molto bene e bene è così e quindi vi faccio vedere una nuova cosa che mi è arrivata ne avevo parlato su Instagram l'avevo ordinato quando era in offerta e Daniele mi dice vieni in primavera c'è freddo adesso cioè il vostro freddo ti garantisco che nulla ha a che vedere col nostro freddo nebbioso ma so che hai ragione è vero adesso c'è fresco però insomma è così vi vorrei far vedere però questo libro tento di illuminarlo un po' bene ok mi è arrivato pochissimo tempo fa ha un prezzo di copertina di 30 dollari ma in realtà l'avevo preso su Amazon era in mega offerta a 10 euro che è stata un'offertona pazzesca questo qui è un libro che ho recensito su Vanilla Magazine l'avevo recensito grazie a molte immagini che avevo trovato online e finalmente sono riuscito a comprarlo perché sempre costato circa 30-35 euro eccetera e adesso vi trovo eccoci qua vi faccio vedere la spirale di Fibonacci e altre curiosità secondo me è molto molto bello se avete bambini ragazzi appassionati di matematica geometria di queste cose qui è veramente bellissimo questa va bella la conoscete la spirale aurea sicuramente ma vi faccio vedere qualche foto adesso qua per dire ci sono insomma c'è un po' di matematica tipo qui la vedete FI uguale adesso non riesco a vedere bene radice di FI uguale radice di 1 più radice di 1 più radice di 1 insomma ci sono un po' di espressioni matematiche che chi non mastica fa un po' fatica ma la parte bella di questo libro secondo me è quando ci fa vedere tutta la geometria che regola la matematica vicino alle figure insomma adesso se riesco a trovare ecco per dire eccoci qua bello questo faccio vedere queste tento di rendervelo ben intelligibile vedete come le proporzioni dei volti siano sempre uguali quelli che noi consideriamo belli guardate anche qua tipo questa qui è sicuramente Nefertiti sono sicuro perché me la ricordo questo non ricordo vado a vedere devo curiosare questa è Giulia Flavia che fu la figlia dell'imperatore romano Tito ecco ci fanno vedere che le proporzioni della bellezza sono sempre uguali no? e queste qui è la bellezza classica e qui la riporta su modelle odierne dove la bellezza è sempre segue sempre le benesime proporzioni beh insomma a me piace piace molto il rettangolo aureo e adesso vi faccio vedere anche qualcosa con la spirale ecco per dire no questo eh comunque insomma è stato un libro che se lo trovate in offerta mi raccomando compratelo perché davvero ne vale la pena insomma è strapieno di immagini eccoci qua oh bella questa mi piace non voglio dire una eccoci qua ok allora guardate il partenone no? dove la spirale di Fibonacci si va a inserire nel rapporto fra le colonne l'altezza del tetto e e le metope e insomma esatto si fra colonne metope altezza e il tetto insomma ci fa vedere tutti questi questi queste proporzioni che sono della bellezza che alla fine sono si possono verificare anche con la con la geometria chiaramente cioè è un po' tutto collegato ecco io ho una delle cose più belle secondo me che ho studiato quando ho cioè aver fatto ingegneria diciamo mi ha fatto migliorare moltissimo in matematica perché l'ho studiata tanto e davvero quando studi matematica in modo approfondito adesso io ho passato soltanto analisi 1 analisi 2 ci sono tanti colleghi che hanno passato anche analisi 3 e credo che ci sia penso a matematica nella facoltà di matematica si faccia anche analisi 4 ti rendi proprio conto di quanto la come dire la natura e moltissime cose seguono regole regole matematiche e avere conoscenze matematiche ti avvicini molto alla comprensione del del cosmo e dell'essere umano più in genere magari sto dicendo delle eresie ma per me è così guardate che belli anche questi disegni le proporzioni le proporzioni divine no sono molto molto belli veramente è una è una cosa molto secondo me molto interessante è un libro che io vi consiglio ecco ve lo faccio rivedere si chiama The Golden Ratio Ratio in italiano la proporzione vi do come consiglio mi sembra molto molto bello e è vero Raffaella mi dice che Escher è un altro artista interessantissimo mamma mia proprio di Escher a Escher ci si appassiona davvero in modo eccezionale dice Raffaella dice che è lavorata in matematica che mi capisce bene sono sicuro che capisci molto meglio di me io che ho come dire avuto un approccio iniziale alla matematica no quindi con quegli esami devo dire che si cioè proprio si riesce a capire molto molto bene cioè si riesce a intuire poi dopo sicuramente proseguendo nella conoscenza si capisce molto meglio però è proprio è proprio così insomma Matteo facciamo un altro Lego guarda guarda è appena uscito Lego Singapore Architecture costa la bellezza di 59-69 non lo ricordo ma costa quella cifra lì ed è molto 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 bello se te lo dico secondo me è molto bello il Lego Singapore ed è un nuovo architecture 59-99 ed è un adesso ve lo faccio vedere qui sul cellulare eccolo vediamo se mette a fuoco no mette a fuoco assolutamente nulla bene comunque ah no non è che lo mette a fuoco non si vede più la foto adesso dovrebbe esserci sì ok che brutta messa a fuoco ecco è questo e c'è la piscina di Singapore l'hotel piscina che si chiama Marina Bay e poi agli altri grattacieli che gli sono davanti questi questi grattacieli qui sono davanti al Marina Bay che è questo e poi questi qui dove sono stato che sono i fiori sono tipo dei fiori giganti però fatti a museo della botanica una cosa simile ma sono ma è veramente spettacolare quindi Lego Singapore non sarebbe non sarebbe assolutamente male devo dire la verità mi manca proprio tra tutti i Lego che ho qua quell'architecture lì veramente ci vuole ecco costa 60 euro Valeria costa 60 euro ah dice Michele che abbiamo avuto oggi il derby di pallavolo Ravenna contro Vivo Valencia ok io non la seguo più la pallavolo nonostante sia lo sport dove ho raggiunto i migliori risultati non la seguo più sono sincero e certo che voglio il Lego di Singapore ragazzi cioè a questa collezione ho tutti gli architecture dovrò anche avere il Lego Singapore certo e sì assolutamente sì devo riuscire ad avere il Lego Singapore e mi dice Valentina che ha trovato il il libro molto interessante che c'era da tempo Maria Giovanna Maria Giovanna mi dice se non è pubblicità occulta non so Maria Giovanna che cosa tu ti riferisca forse ai Lego boh non è che faccio pubblicità parlo solo della mia passione per la costruzione di mattoncini e peraltro nel vedere i miei Lego tutti costruiti qua che mi danno sempre tantissima soddisfazione cioè la collezione architecture veramente secondo me è molto molto interessante il Lego delle piramidi no ragazzi non non lo ricordo il Lego delle piramidi ecco non non credo che esista un Lego delle piramidi sono sincero non lo ricordo allora Thomas Mauritius Escher ha girato tutta l'Italia in cerca di contaminazioni arabe nell'architettura italiana è interessantissimo dunque no Mives mi dice sei simpatico anche quando in tavoli due chiacchiere sui tuoi progetti sui giù con il pensiero sì in realtà il caso Murri l'abbiamo un po' esaurito come caso nel senso che ci sono gli sceneggiati ci sono sappiamo chi è stato io personalmente non sono convintissimo della confessione del fratello di Tullio mi sembra un po' un po' forzata però chissà potrebbe io non sono molto convinto della confessione di Tullio in tutta quella vicenda però ribadisco chissà mi può dirlo non ho non ho non ho idea Paolo dice Leo Casa Bianca sì l'ho visto credo però costa un sacco di soldi lo ricordo male non volevo prendere cioè ti dico attualmente c'è un lego molto costoso che per me è molto interessante che è il Titanic quello veramente è un bel lego fatto bene e lì ci vedo un senso quello della Casa Bianca ma anche il Taj Mahal non mi convincono tanto sono sincero non è una sono produzioni troppo costose per dei modellini che non mi non mi dicono molto mi piace moltissimo la casa di McCauley Culkin non ho perso l'aereo quella proprio mi è piaciuta e vabbè insomma esiste il lego piramidi guarda io non l'avevo mai visto adesso andrò andrò a vedere perché non lo ricordavo proprio cioè esiste allora so che esiste la muraglia cinese che non ce l'ho ma non mi piace molto c'è un lego architecture ma secondo me dice poco sono sincero lego piramidi non l'ho mai visto ecco proprio non lo non lo so Valeria dice Singapore è bello ma il Titanic è troppo caro hai assolutamente ragione costa più di 600 euro è una spesa enorme quindi io non non acquisterò il lego Titanic ecco mi sembra davvero esagerato spendere quelle cifre per dei mattoncini colorati però è vero che ho dieci modellini che frattutto fanno quei soldi lì però dico preferisco i miei dieci modellini piccolini che hanno tutto il loro senso quindi ho un po' tutte le città del mondo in questo studio che averne uno grandissimo però stracostoso ecco grazie Gianluca sei gentilissimo ciao viandante benvenuta stasera stiamo parlando di tutto tranne che del caso murri perché lo penso di averlo esaurito io penso di averlo esaurito io però insomma è così Andrea dice volevo la F40 lego ma 400 eurini no sì infatti ti dico a me piace molto la Sian per dire però ragazzi cioè prezzi davvero alti secondo me cioè se deve essere un gioco deve essere un gioco è vero che sono dei modelli collezionabili però insomma hanno davvero dei prezzi dei prezzi molto molto alti almeno io non ho la disponibilità per comprare tutti questi lego che sono bellissimi e che costruirei con grande piacere ma non ho disponibilità per acquistare tutti questi questi modelli ma ho disponibilità per fare un sacco di video su vanilla che è la cosa che mi interessa di più probabilmente quindi l'importante è star bene avere e fare le cose che ci appassionano a me appassionano di più fare dei video sono sincero il lego che ricordo ah sì dunque allora dico qualche altra storia ovvero per chi non l'avesse visto ah sa sa te lo dico in privato guarda se mi se mi dai se mi dai boh un indirizzo ti do o un cosa ti do te lo dico in privato ecco e oggi ti vedo stanco Valentina no oggi non sono particolarmente stanco ho fatto una bellissima partita di padel ad alto livello mi sto rialzando come livello di gioco ho fatto due no solo una settimana ma sto tornando a giocare molto bene avevo fatto tanto stop anche perché in Grecia non c'è il padel ad alto livello e quindi ero tornato un po' a livelli bassi 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 domani ho la fortuna che mi han chiamato a giocare due partite e quindi domani farò montaggio partita di padel torno indietro qui faccio un altro po' di lavoro però sul sito poi dopo torno a giocare poi dopo torno qui mangio e poi dopo esco con degli amici la sera insomma è una è una vita difficile ma in realtà quando non gioco a padel lavoro sempre quando non lavoro scusami scusami quando non dormo tento di lavorare quindi ti ho detto ieri sono andato a letto tardissimo sto preparando questi video per venezia che mi interessano molto mi piacerebbe riuscire a fare qualcosa di proprio bello perché la sento sento che sia insomma importante dei prodotti di alta qualità adesso credo di aver iniziato a maturare una buona tecnica per riuscire a fare anche dei video più 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 belli e quindi voglio sfruttarla peraltro a venezia avrò una collaborazione alla quale tengo molto che mi piace tantissimo e quindi devo riuscire a fare un buon prodotto e per questo ci vuole un buon testo e fare un buon testo non è soltanto il testo dell'articolo ma tutto quanto il resto è capire dove andare a girare i diversi pezzi correggere gli errori o le superficialità o le cose così insomma non è semplice non è semplice devo dire la verità almeno io non lo trovo semplicissimo si sa sa è proprio lì è proprio lì guarda è proprio lì dove dove dicevi è proprio lì dove dicevi grazie se 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 è così e dice valeria sperando che un giorno il lego titanic riabbassi i prezzi con l'iceberg e jack e rose si guarda ti dico no di dubito che arrivassi i prezzi secondo me rimarrà attorno ai 600 euro ma anche legittimamente perché tanto è un prodotto di nicchia è un prodotto per chi fa collezioni importanti per chi ha grosse disponibilità come è stato il Colosseo per noi l'abbiamo fatto in tantissimi e ci siamo riusciti è un prodotto anche questo qui è un prodotto di nicchia perché costa 500 euro più di circa 500 euro è un prodotto di nicchia chi ha 500 euro da spendere da investire in un modellino di plastica è chiaro che per noi è un bellissimo simbolo io sul titanic non ci faccio particolarmente la bava sono sincero anche se vedendolo è una cosa spettacolarissima dice Nives si concordo con te ho studiato statistiche analisi matematica 1 e 2 è un po' diverso da ingegneria ma aiutano a capire le architetture guarda ti dico io in alcuni video ho fatto vedere cosa ho fatto all'università io ho fatto analisi 1 e 2 ma sono andato non è che ero bravissimo ho preso 21 mi sembra 18 una cosa del genere e ti giuro che il 18 dell'analisi 2 secondo me era rubato perché io gli integrali tripli non ho mai saputo farli quindi lo confesso secondo me erano 18 rubato non so perché mi aveva dato 18 vabbè ma tanto non è che si è concretizzato nulla e poi avevo fatto fisica 1 e quindi sì in realtà mi manca tanto cioè mi sarebbe piaciuto approfondire meglio la conoscenza della fisica soprattutto e della matematica perché davvero riesci a comprendere meglio l'ambiente che ti circonda peraltro una materia che avevo studiato alle superiori che mi era piaciuta tantissimo era geografia astronomica dove ad esempio quando si parla degli alieni se uno non ha la concezione la percezione di quelle che sono le grandezze in gioco cioè i parsec gli anni luce eccetera e non ha la concezione un po' della matematica e degli ordini di grandezza dei numeri della matematica non si rende conto dell'enorme difficoltà che possa avere una civiltà ad arrivare da un pianeta all'altro delle distanze che ci sono fra i sistemi fra i diversi sistemi fra le varie galassie fra i vari soli e quindi secondo me la matematica davvero aiuta a comprendere un po' tutto ed è importante conoscerla almeno a un livello che ci consenta di non essere spaesati in un mondo che ruota attorno alla matematica perché la matematica regola tutto quanto dall'economia ma anche come dire la creduloneria di tanti non lo so sugli alieni o questo tipo di cose qui secondo me alle volte deriva molto anche da questo da una totale mancanza di competenza in materie scientifiche che ti impediscono di capire che percorrere dieci anni luce per qualunque essere umano cioè è una cosa in pratica quasi impossibile con tecnologie che noi riusciamo anche solo a immaginare figuriamoci migliaia di anni luce che ci distanzano dagli altri sistemi quindi ecco io la matematica la consiglio un po' a tutti io sono arrivato un po' troppo oltre perché dovevo fermarmi prima dovevo fermarmi al liceo e poi dopo proseguire gli studi umanistici però vabbè sono errori che si fanno a 18 anni e dopo non si recuperano più o meglio spero di riuscire a recuperare prima o dopo anzi Progio mi dice se ho fatto un video su Silvia Likens secondo me no però lo dovrò fare te lo dico già e so bene che lo devo fare la viandante dice la matematica è affascinante anche praticata sul tema dell'entropia della comunicazione i codici numerici che trasmettono e creano saluto Sassà che va a dormire Rina dice matematica linguaggio universale beh sì la matematica è un linguaggio universale secondo me anche se non c'è non la nostra cioè mi spiego la matematica è un linguaggio universale però non tutti comunichiamo allo stesso modo mi spiego la matematica la matematica che pensiamo noi è completamente ad esempio diversa da quella degli assiri che ragionavano se non ricordo male in base 60 sì ragionavano in base 60 e quindi i loro calcoli cridogonometrici erano più precisi dei nostri che ragioniamo in base 10 per esempio ecco questa è una cosa che ho scoperto grazie a Vanilla e agli studi che faccio su Vanilla e devo dire che per me è interessantissimo cioè il fatto che noi ragionando in base 10 dobbiamo sempre approssimare i 3,33 erotti e i 6,66 erotti o i 5,67 eccetera e invece ragionando in base 60 sarebbe molto più preciso il sistema di calcolo per me è faciliantissimo e pensare che prima di noi migliaia di anni fa c'era un popolo che aveva capito queste cose qui per me è strepitoso vabbè basta vi smetto di tediarvi con la matematica però anche perché non ricordo assolutamente nulla e se mi faceste fare uno studio di funzione non ricorderei minimamente come farlo però almeno mi sono rimaste le nozioni filosofiche della matematica e quelle li tento di portarmele dietro grazie Alberto grazie sì tento di essere il più onesto possibile ma non vedo che altro cioè sarebbe sciocco non esserlo sarebbero tutti segreti di pulcinella secondo me dunque Rina Imperio interessante questo è un bel un bello stimolo un bel come dire un bel un bello spunto di riflessione io vorrei una materia inserita nel sistema scolastico tecniche di autodifesa intellettuale ne avremmo tutti bisogno io in primis guarda so che hanno appena inserito una materia in lombardia che non è l'autodifesa intellettuale però ci assomiglia molto è una materia che praticamente credo che sia tipo psicologia dove ti aiutano a cioè mi ricordo più o meno il concetto ovvero ti aiutano a capire meglio il tuo essere e l'essere in società sostanzialmente mi è sembrata molto interessante spero che l'iniziativa non si limiti alla Lombardia ma si venga estesa tutta Italia e sì perché in realtà a scuola si studiano un sacco di nozioni no? quindi tozioni nozioni 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 ma poi dopo non ti insegnano molto riguardo il tuo essere umano no? sì puoi studiare ecco per esempio ho studiato filosofia che ho adorato e allora certo che lì capisci qualcosa capisci molto se hai orecchie per ascoltare però affrontare la cosa dal punto di vista psicologico credo che sia molto importante perché tante persone magari hanno eccellenti carriere scolastiche però poi dopo non riescono a tradurre queste carriere in invece un approccio al mondo del lavoro vincente tante volte anche solo per cultura familiare perché magari si proviene da una cultura familiare proletaria ad esempio io e poi dopo si fa fatica a capire le inclinazioni di una persona che possono essere più o meno artistiche più o meno scientifiche si fa un po' fatica e si parte sempre da convinzioni ancestrali che non sono più realistiche nel mondo d'oggi e fare una materia che sia un mix fra psicologia conoscenza personale eccetera secondo me è molto importante ma vi troverò la materia come si chiama in Lombardia perché per me è molto 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 bella e così saluto Alberto che va a letto bella Michele fa la matematica non sarà mai il mio mestiere una canzone bellissima guarda mi ha proprio fatto venire voglia di andarmela ad ascoltare e via bene allora anch'io ho un po' di lavoro da fare stasera spero di non arrivare le due di notte perché è un po' tardi per riuscire a lavorare ma devo preparare un sacco di cose fra cui tutti i video della prossima settimana e i testi e le location per il mio prossimo viaggio a Venezia se volete seguirmi ragazzi ricordate di seguirmi su Instagram mi trovate come Matteo Ruboli e mi seguite lì e vedete un po' quello che faccio tento di postare non posso tantissimo perché non sono non mi considero uno che ha bisogno di postare in continuazione però ci sono delle cose interessanti che mi piace condividere bene detto ciò vi saluto vi ringrazio per essere stati con me vi do appuntamento in live a domenica prossima ovvero tutte le domeniche ci troveremo qui in live o meglio quelle che riesco per tutti gli altri ci vediamo domani mattina alle 8 con un nuovo video buonanotte a tutti e grazie per essere stati su vanilla con un nuovo video con un nuovo video con un nuovo video con un nuovo video con un nuovo video